Il percorso ciclo pedonale del viale Arcadia ha bisogno di manutenzione. Questo è ciò che pensano tante delle persone che quotidianamente lo frequentano. Qui bisogna tenerlo un po' meglio perché l'erba si può vedere che è alta e poi c'è sempre queste foglie, sempre tutto tenuto così. È meglio pulire, la città deve essere pulita perché passano i bambini, passano i anziani, passano tutti, però fanno quelli che possono anche loro. Questo vialetto necessiterebbe un po' più di attenzione per quanto riguarda il taglio e la cura dell'erba più che altro perché c'è gente che ci fa le camminate, passeggio ai cani, in bicicletta, quindi è giusto che sia un po' più pulito. Le ajuare delle strade non sono tenute molto bene da un po' di mesi, non vengono tagliate né pulite da tutte le foglie che cadono e infatti è tutto sudicio per le vie. L'erba è molto alta e comunque anche per l'estetica delle città e comunque fa bene ogni tanto prendersi cura dell'erba così a me ricresce meglio. Critiche anche per la cura del giardino in area Alpi, lungo il viale. L'erba è molto alta e io alla mia bambina piace molto questo scivolo che anche se è mezzo rotto ma non solo, come vedete c'è queste erbacce che insomma non è proprio il massimo. Tre mesi, in meno tre mesi che non venga più, ormai è altissima, c'è i forasacchi, tra l'altro c'è un'area cani quindi è quasi impossibile andarci. L'area cani è stata tagliata da quelli che ci portano il cane, sono andati col frullino e l'ha tagliata, infatti l'unico posto pulito è laggiù. Anche se c'è delle buche nell'area cani da farsi del male perché ci sono 7-8 buchi di 40-50 cm quindi è poco praticabile. A volte basta provare di persona le cose perché anche la pista ciclabile non si può più percorrere, l'erba è veramente alta. Il fatto è che l'erba viene tagliata da parecchi mesi e quindi si può giocare però è difficile stare in compagnia di altre persone che magari non giocano o anche con le famiglie, con i bambini, anche fare un picnic, cose del genere perché non è possibile stare sull'erba così alta. Grazie. Grazie. Grazie.